bentornati su canale per te questo blog qui è il gonz e siamo qua per fare un unboxing di un pacco fantastico bello corposo che mi ha mandato cg entertainment che ringrazio dentro c'è qualche novità e alcuni cult che mi mancavano in collezione mi sono mancato partiamo da black water abyss blu ray di andrew trauchi regista che non conosco e che ha fatto il film dei riff un film con gli squali sembra un po che si chiamava quell'altro fin con gli squali dove due rimangono in mezzo al mare insomma tratto da una storia vera questo qua però ai coccodrilli questo regista ha fatto altri film sempre con ambientazioni con animali quindi squali coccodrilli c'è un film precedente si chiama black water non lo so spero che sia carino meglio i coccodrilli mi hanno sempre fatto parecchia paura perché hanno questo sguardo vuoto non lo so li trovo veramente spaventosi un po come i dinosauri no in effetti loro sono un po degli animali preistorici questa è l'edizione ma sicuramente il coccodrillo mi fa più paura degli squali questo è poco ma sicuro un gruppo di amici guidati da uno speleologo decidono di esplorare un sistema di garotte sotterranee nel quale quest'ultimo si è imbattuto mentre la ricerca di due turisti scomparsi purtroppo però durante l'escursione si manifestano incredibile tempesta tropicale insomma rimangono bloccati e saranno grandissimi cazzi loro black water abyss sicuramente vi farò sapere la mia opinione su questo film horror con gli animali poi passiamo a non aprite quella porta 3 che non ricordo credo che sia una trascetta veramente galattica film di clyde anderson che in realtà non è altri che claudio fragasso ovviamente è un film apocrifo di letterface insomma della saga di texas chainsaw mas però in realtà non c'entra niente assolutamente niente infatti il titolo originale del film doveva essere in realtà night killer poi i produttori che ci mettono sempre lo zampino per riuscire probabilmente a attirare la gente al cinema lo chiamarono non aprite la porta 3 insomma sono quelle robe che fanno molto folclore oggi il film come era stato girato da claudio fragasso non andava bene produttori quindi fecero girare delle altre scene aggiuntive platter a bruno mattei credo che sia veramente una trascata di quelle pazzesche quindi guarderò con grande piacere essendo io un amante del trash a proposito di trascate abbiamo abbiamo un altro film di un finto americano william snyder che in realtà non è altri che appunto bruno mattei famoso per essere un regista che rubacchia qua e la filmati da altri film o da documentari ecco questo non è il caso più lampante credo cruel jobs fin diventato cult per la trama e per l'uso di stick footage ecco come si dice stick footage praticamente dentro trovate scene di altri film con gli squali rubate proprio prese in prestito tra virgolette da documentari eccetera eccetera quindi si noterà probabilmente che lo squalo insomma cambia continuamente addirittura cambia da squalo bianco a squalo tigre eccetera su bel su good sì ecco il classico film marcio marcio dentro che marcio dentro che intenerisce i nostri cuori di amanti del cinema horror fighissimo fighissimo mi piace molto la cover semplice e potente passiamo da un film ultra trash a a un film invece che secondo me è un capolavoro che è un film di giud amato dicesi anche aristide massaccesi suo vero nome insomma sto parlando di buio omega ma parte lo splendore di questa copertina vintage è un film del 79 sulla necrofilia veramente malato veramente malato bello bello in tutti i suoi aspetti ma la storia di questo tizio che dimora la fidanzata comunque la donna che ama e lui se la quindi se la tiene se la se la tiene lì come un feticio che succederanno altre cose questa è una nuova edizione da master in alta definizione come potete leggere qua sotto questo è davvero assolutamente è stupendo tanta roba buio omega tra l'altro ho convinto di averlo in collezione invece finalmente lo recupero adesso vi faccio vedere un'altra tra virgolette si novità nel senso che non è da molto in un video credo storia di un fantasma in blu ray scusate storia di fantasma in blu ray devo dire che è un film incredibile nel senso molto fuori dagli schemi abbastanza particolare chiaramente non è un horror inteso come qualcosa che deve far paura ma è molto deprimente molto angosciante sotto certi punti di vista cazzo cazzo ma è tristissimo è tristissimo però mi è piaciuto mi è piaciuto c'è la sua tizia che muore la rappresentazione di lui da morto come potete vedere è il classicissimo lenzuolo con i due puchi cioè stupendo la cosa in realtà il film è molto serio è è molto serio fa riflettere interessante veramente un bel film secondo me horror solo per le tematiche non per certo perché faccia paura ecco da avere veniamo a un maestro del c sapete che storicamente i dvd mi cadono ecco stava per succedere vediamo a un maestro del cinema horror thriller italiano che viene nominato veramente troppo poco di cui anch'io non ho visto tutto infatti vado a recuperare un po di cose sto parlando di mario bava e adesso andiamo a vedere i film un attimo che mi metto cinque film mi sono fatto mandare da cg per riempire questo vuoto nella mia collezione li prendo un po a caso cinque bambole per la luna d'agosto film thriller insomma questi sono horror thriller comunque sono dei thriller abbastanza violenti quindi rientrano perfettamente nel genere che piaccia a noi questo è del è un thriller del 1970 liberamente ispirato a dieci piccoli indiani di agatha christie e tra l'altro citato in una scena di kill bill da quentin tarantino secondo me sono sono tutti da recuperare in un modo o nell'altro chiaramente legale potevo aprirli prima non so più dove andrò a vivere con tutti questi film allora questo è veramente un caso assurdo la casa dell'esorcismo è un film praticamente di cioè attribuito a mario bava ma è un rimaneggiamento di un vecchio film di mario bava che si chiama lisa il diavolo da cui sono state aggiunte delle scene è stato rimontato sono state aggiunte delle scene appunto girate dal freddo leone e di cui mario bava in realtà ha rifiutato rinnegato la paternità appunto perché chiaramente credo che l'avrebbe fatto chiunque e quindi insomma è veramente un caso molto particolare sono proprio curioso di vedere cosa ne è venuto fuori perché dietro a certe operazioni cinematografiche ci sono veramente dei casini incredibili tra l'altro come potete vedere c'è kojak i più giovani non sapranno di che cazzo sto parlando gli orrori del castello di norimberga che non è stato girato a norimberga ma in austria ecco qua gli orrori fin del 1971 sono tutti più o meno degli anni 70 questi sono sono contento di far vedere un po di film vecchi e di andare a recuperare anch'io dei film vecchi e spero che i giovani che si appassionano loro ma anche quelli che si appassionano tardi all'horror chiunque possa diciamo uscire un po dal da questa moda dello mainstream e pensare sempre alle nuove uscite e basta perché c'è tantissima roba vecchia da andare a scoprire riscoprire rivedere perché a volte quando passano anche 30 anni uno si dimentica di averli già visti e così magari avremo meno con giuliani che dicono che the conjuring è il capolavoro assoluto perché in realtà c'è una storia dietro a questi nuovi film nuovi franchise ci sono accetta tanta storia di cinema che è un po andata dimenticata quindi andiamo a riscoprirlo fatelo anche voi facciamolo tutti così riusciamo a farci una cultura anche migliore gli orrori del castello di norimberga baron blot il rosso segno della follia sempre mario bava sempre vediamo non mi ricordo di che anno è 70 ma quanti cazzo di film faceva questa gente trailer galleria fotografica un thriller psicologico donna non vedo l'ora di vederli tutti cioè fantastico vola dentro non è stampato quindi in questo caso però molto carina questa immagine il rosso segno della follia e poi ultimo reazione a catena ma quanto è bella questa copertina qua ragazzi tutto questo rosso fin del 1971 con gli effetti speciali di carlo rambaldi grandissimo carlo rambaldi durante la lavorazione aveva il curioso titolo che a me piace molto così imparano a fare i cattivi lo trovo molto molto simpatico allora questo film è considerato praticamente il il vero capostipite del cinema slasher quindi molti molti dicono molti affermano che se non ci fosse stato questo non ci sarebbe stato venerdì 13 e compagnia bella quindi tanta roba qua abbiamo anche un fantastico librettino leggero leggero ma che fa sempre piacere trovare un foglio però insomma c'è da leggere curato da notturno bravi infatti vedete qua c'è una scena di due che sono stati ammazzati quindi non so se vi ricorda qualcosa questo è il fantastico pacchettone di cg entertainment io vi ricordo che su cg veramente c'è un mare di roba fantastica come questa che tante volte viene anche messa in offerta quindi tenete d'occhio la loro pagina facebook tenete d'occhio il loro gruppo lo sarà il gruppo start up che vi dà anche la possibilità di partecipare a delle uscite piuttosto fighe state lì dietro perché questi film valgono un sacco secondo me dal punto di vista artistico non c'è bisogno di aspettare per forza il nuovo film di james one perché ci sono i film di mario bava adesso li rimetto tutti insieme e vediamo se riesco a farli cadere come al solito riuscirò sono tantissimi che dire grazie cg grazie di esistere ne mangio uno che sta volando qua sotto infatti eccolo qua allora eccoci qua ecco tutti i film dell'unboxing se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale ma anche a seguirmi su altri social siamo praticamente su tutti i social comprese altre piattaforme video e dove si fanno live sono tornato finalmente su youtube ci tornerò presto anche con altri video turuturuturutum turuturuturutum commentate scrivetemi se avete visto i film se ve le ricordate se vi incuriosiscono e lasciato un like o un dislike se siete dei grandissimi pezzi di